non abusate di lassativi i lassativi non sono innocui causano parecchi problemi il mancato assorbimento di sale minerali di calcio magnesio sodio potassio che possono dare astenia problemi ossei e così via. Inoltre provocano una disidratazione con anche il rischio di trombosi. La stipsi non è dovuta quasi mai a problemi di ordine intestinale ma nel 92% dei casi è dovuta a un prolasso rettale che ostruisce la defecazione. In altri termini quando scendono le feci dal sigma il retto si abbassa ostruisce il lume e impedisce quindi l'espulsione delle feci. Nelle donne si forma spesso un retto gele che è una dilatazione del retto distale e questo può spingere in avanti la vagina. Allora quando voi adoperate lassativi rendete le feci più fluide ma non correggete la causa e quindi andate incontro a tutte le complicanze che portano l'abuso dei lassativi. Vi è una tecnica chiamata STAR che senza incisioni cutanee elimina questo prolasso rettale, questo retto gele, con una procedura assolutamente indolore che richiede solo una notte di ricovero in ospedale e risolvete tutti i problemi correlati a questo prolasso che non sono solo la stipsi, ma la stipsi a lungo andare causa anche la formazione dei diverticoli del colon. Quindi non abbiate paura a fare un intervento mini invasivo ma abbiate paura a diciamo creare tante complicanze e tanti problemi con l'abuso dei lassativi.